no eccoci tornati a stella tappi 2 siamo nel nether devo scoprire quello che stavo facendo e stiamo facendo una bella casetta qua per non farci fregare dal no non voglio andare a vedere dalla pietra andiamo a prendere e vediamo se c'è un po' vicino la polvere luce si 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 e che cacchio dovemmo riuscire prendi un sapling di questo coso mi ricordo questo portaccio non ciò ma conosce devo tornare aspetta torniamo e poi torniamo con tutta la roba che ci serve ok si facciamo una cosa facciamo pure facciamo pure facciamo pure un bucce ecco ok aspetta un secondo questo potrebbe essere fastidioso a vedere e invece hai chiuso senza paolo nel nether però cosa devo fare mi sentete pig pig ma lascia le storie se no c'è che antipatica peppa pig peppa pig peppa pig sembra più bravo impreso i suoi amici sono cattivi ok ok va bene torniamo aspetta che ci stiamo mangiando un tercone torniamo a casa 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 dolce casa 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 c'è una bella porta c'è una bella porta c'è la pietra luce così andiamo nel 2 ah è vero giusto tu dici che si deve fare il portale allora certo si deve fare il portale il portale si apre con quello poi ci mettiamo una pedra varia no legno questo questo allora per adesso è un po' un casino dobbiamo sistemare tutta questa roba questa la mettiamo adesso qua e allora assieme a questa ah ok ah questo mettiamo cos'è il letto ok il letto c'è sopra devo mettere uno sopra anche se uno basta allora devo farmi facciamoci una bella un po' satisfare 1 2 3 e poi una forbice pure una forbice per prendere cose va bene la zappa adesso non mi serve però non si mette che la forbice è stata cambiata pure? no ah no ok ok mettiamoci un panino prendiamo della terra della pietrisco e appena la casa che ci manca? niente niente senta devo fare facciamo una cosa ehm si perca? non capisco cosa vuoi fare ah il cancelletto due cancelletti qua c'è non si fischia perchè si fischia? non si fischia Minacraft non si fischia Minacraft che è una legge si chi l'ha dettata questa legge? beh ok ok più bella sempre diventa si arrivati ok 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 vediamo questa cosa qua vediamo cosa potrebbe fare bravo che vuoi? e allora qua sotto c'è va 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 aspetta cosa l'ho visto lì? ma scusate quella cosa l'ha? la vedete a sinistra che è quella cosa bianca? no il gas l'ho visto il gas la destina del petello è un cavolo si lo vedo quella cosa bianca ci dobbiamo organizzare ci dobbiamo organizzare ok 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 cerci una porta avanti rottura amore scema questa è la mente non c'è che ci dobbiamo il gas non c'è la non c'è il castello tutto con la carne a te che volevi fare e tra la carne è lì invece del mattone l e così lo faceva ah per cui c'è bisogno di mettere qua avanti poi venire sempre aspetta facciamo pure qua no perfetto c'è un lato c'è il caso quello di diamantolo si avvicinati lì il copalto ma la cosa con il peccone di valore lo prende perchè? che ci vuole la bomba? tinker scostotto non c'è incredibile, non sto a prendermelo un gusto ok sempre che ci lamentano sono facciamo un tetto qua no, aspetta un secondo trocci a malta molto alto quanto il coso si non 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 ok 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 chiudiamo tutto dopo aver finito chiudiamo tutto spera quello che ci spara e ci ammazza già speriamo di no ora canote ci ammattiamo già subito non non ti auguro non 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 ho creato, abbiamo fatto solo una volta e basta ok dai dai che abbiamo finito dai 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 che abbiamo finito un po' marconcia quella si stiamo io allora perché a me piace le cose sistemate allora qua devo farci la porta cerci un ferro provociamo allora prendiamo questa roba ma guarda che c'è una perlina una perlina d'oro l'ha persa un coso big zombie ma cos'è questo? cosa ci darà? niente non prendo quella cosa con la forbice ah e mi prendo i cosi? si me li da? si che te li do me li da? si 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 me li da me li da che bello si ma con la forbice non mi dai io cerco le cose lo so le piantine che bello che bello sta mele potash apple mangiamocela guardiamocela sai noto che succede se ce la mangiamo guardiamo e neanche cosa comunque ho capito che devo fare un'altra cosa per piantare tutti gli alberi che troviamo in giro e neanche guarda ste piantine super merimose qua mangiavano mela qua questa mela è buona e non si sa ancora come sono la mente neanche me la posso immaginare proprio non lo so non c'è stato un accidente ah che bello questo legno ah non ce l'ha capito no che bello questo legno che forte aspetta aspetta che bello che forte ok se ci vedete la sabbia poi quando ho il tempo la tolgo queste scherchezze togliamo subito perchè la sabbia veramente rallenta cosa no rallenta oh ma il travollino ancora no 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 ma ci siamo i funghi stappate veramente avvenuto perché le cose sono ma portino vediamo se parte però ci sono due anni prima che mi dici cosa serve ah anche la colore fa verde va bene ma mai non serve buono 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 ma già ma che dice le verruca! le verruca nel nether è già così le trovi? senza proprio cercare il castello di solito si trovano nel castello le verruca nel nether c'è per salire? c'è l'autoguarda la verruca è già qua